Terza vittoria consecutiva per Sergio Porrini alla guida del Crema, oggi è arrivato un 5-1 contro il Luciano Manara, quindi 16 gol da quando sei arrivato, fatti uno solo subito, ma soprattutto il Crema che continua a macinare gioco e gol. Sì, una buona partita, non era facile, io lo sapevo perché Luciano Manara l'avevo visto più volte e sapevo che era una squadra in salute, che veniva da un ottimo risultato perché la vittoria sul Sondro aveva dato sicuramente morale e quindi si è verificato in campo che le difficoltà che alla vigilia avevo preannunciato. Siamo andati sotto e non era facile oggi, quindi siamo stati bravi. Siete andati sotto al diciannovesimo, dopo tre minuti avete recuperato il pareggio e poi è arrivato il gol del 2-1, sinonimo di grande carattere. Sì, carattere sicuramente, fondamentale pareggiare subito perché comunque dopo nel caso non l'avessimo fatto magari avrebbe potuto cominciare un po' di nervosismo perché loro sono venuti logicamente per chiudersi, per difendersi, hanno giocato con tanti uomini sotto la linea della palla per poi ripartire, l'hanno fatto molto bene e quindi siamo stati bravi a crederci e poi nel momento in cui loro nel secondo tempo soprattutto si sono aperti poi sono venuti fuori quelle che sono le qualità negli spazi dei nostri giocatori. Tre vittorie su tre, da quando si è arrivato possiamo tranquillamente dire che il solco verso la strada giusta è stato tracciato? Sì, tre ottime prestazioni però come ho detto ai ragazzi da qui in avanti le dovremmo migliorare perché arriveranno test sempre più difficili di partita dopo partita quindi dobbiamo alzare l'asticella delle prestazioni e delle motivazioni perché oggi è stata la dimostrazione che questo campionato non è facile. Mister, due parole sulla Brianza, 21 punti in otto partite, l'unica sconfitta l'ha fatta proprio alla Voltini contro il Crema, non è più quindi una sorpresa ma una bella realtà. È una realtà, una realtà perché è una squadra che vince sette partite su otto vuol dire che ha delle basi solide, vuol dire che ha un gruppo forte che magari non spicca per una singola individualità però che è una squadra solida una squadra solida e quindi da qui alla fine sicuramente lotterà per vincere questo campionato. Test probante ancora per la tua squadra Domenica al Voltini contro il sondrio retrocesso della Serie D. Sì, una squadra retrocessa che ha dentro nel proprio organico uomini di categoria superiore di grande qualità e quindi come appunto dicevo prima domenica dobbiamo alzare ancora di più l'asticella della prestazione e la consapevolezza che questo campionato se non lo interpreta nel modo migliore cioè con grande dedizione, con grande voglia, rabbia agonistica, cativeria agonistica è un campionato difficile quindi nessuno parte vittima sacrificale di questo Crema che a detta di tutti risulta essere forse la squadra più forte ma bisogna dimostrarlo sul campo e domenica quindi voglio da parte dei ragazzi una grandissima prestazione perché non sarà una partita molto difficile.